ah ecco l'erciato non ha fatto nessuno che è successo ma fa il culo no l'ho fatto male lo vuoi rifà? no questo lo devo prendere velocità se no non glielo faccio lo volevo vedere questo è da nuovo ma non va ma dai no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.